Sono iscritta a ANAST perché l'associazione mi rappresenta e tutela la nostra professione. Vediamo gli esempi di alcuni colleghi. L'associazione ti rappresenta in OCF, l'organismo di vigilanza dei consulenti finanziari. L'associazione ti rappresenta in NASARCO. L'associazione ti tutela nei confronti dell'agenzia dell'entrata. L'associazione ti rappresenta nei confronti dell'intermediario. L'associazione ti rappresenta anche davanti alle istituzioni. L'associazione ti rappresenta durante gli esami dell'ammissione all'azienda. L'associazione promuove la nostra professione nelle università. L'associazione aiuta i giovani a pensare al loro futuro. Questi colleghi sono solo la punta dell'iceberg. Tutti insieme siamo una grande forza. Se non sei socio rimani solo una goccia in mezzo al mare. Aiutaci a rappresentarti e a tutelare. Associa ti. 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 Associa ti.